benvenuti in fuori in dieci minuti oggi vi propongo un risotto con salsiccia e zafferano vi invito sempre a lasciare un like e una condivisione grazie e buona visione grazie a tutti io l'ho fatto così voi come l'avreste fatto vi invito a inviarmi la foto del vostro piatto e la migliore verrà pubblicata sulla mia pagina